Privileggi dell'età, per esempio, no? Cioè, ci sono delle cose che adesso potrai fare e che non facevi prima? Potrei dire cazzo! Quello lo dici lo stesso, quello lo dici a prescì. Però, ecco, a proposito ho sentito la letizietta, che si è rotto. Ma tu senti solo quello che vuoi, cioè... No, scusa, un momento, la letizietta... Allora, io ho un amico che mi ha detto che si è rotto. Io e due non posso reggerle, la stessa puntata non posso. Mi si è rotto... Eh no, troppo. Che devo dire mi si è rotto. Gli ho detto, ma come si rompe? Non si può rompere il cazzo? No, va bene. Scusi, bene, bene. No, non si si è rotto. Ma per esempio... No, ma non si è rotto. Sì, ho capito, ho capito. Ma ho da dire... No, ma non entriamo nei dettagli. Invece si è stortato. Si è stortato, va bene. Non si è rotto. Ha preso una forma tipo... Va bene. Un croissant. Un croissant. Un croissant. Un brioccio. Ancora un privilegio. E dice che ha un successo pazzesco. Pazzesco, Ornella. Perché è rotto. Ornella, sì. Perché è storto. Sì, sì, si è capito. Ornella. Sì. Sì, sì. Sì, sì.